A questo punto direi di partire subito con il primo ospite, un ospite di peso. Andiamo a trovarlo sul nostro divano. Buongiorno e benvenuto ad Antonio Auricchio. Buongiorno. Allora, Antonio Auricchio, un cognome che è tutto un programma. Naturalmente ricordiamo che lei è presidente della Gennario Auricchio SPA, un marchio molto noto in tutta Italia. È ancora vicepresidente di Assolatte dal 2000, quindi un sacco di anni. Ne ha visti in questi 15 anni un po' di tutti i colori. Però in realtà non parleremo né di latte né di formaggi in questo momento perché vogliamo approfondire con Antonio Auricchio un altro aspetto e un'altra sua grande passione, oltre a quella che appunto lo rende noto un po' in tutta Italia, della passione per i viaggi, in particolare per l'Africa e per l'India. Si dice che lei abbia compiuto decine di viaggi in Africa e in India, conferma? Una cosa quasi da Guinness dei primati. Per carità Guinness dei primati no, però come ha detto, se sono da quei decenni vicepresidente di Assolatte, vuol dire che sono vecchio, quindi ne ho fatti tanti, e il mio padre spirituale, che è colui che mi ha accompagnato nei miei viaggi, che mi ha insegnato il modus di viaggiare, cioè non fare il turista ma fare il viaggiatore, è stato Gianni Carutti che per me era, ripeto, non solo una persona di famiglia, ma era veramente il mio padre spirituale. Che bello, quindi ci piacerebbe anche far capire quella che è la reale differenza tra il turista e il viaggiatore, e soprattutto perché trasformarsi in viaggiatori e abbandonare la figura del turista? Questa è una domanda interessante. Intanto volevo dire che sono contento di venire qui e non parlare del latte. Oh, che bello. Vedo solo accennare. Anche se dopo chiederemo dove trova il tempo per viaggiare con tutti gli impegni. Come ho detto a un signore, quando avevo fatto una mostra fotografica, mi ha detto ma lei è quello dei formaggi? E io ho detto no, assolutamente sono un fotografo. Ah, però no cheese, no pizza, tanto che è carissimo la fotografia, quindi senza formaggi non si possono fare fotografie. E poi comunque il famoso cheese quando si fa la fotografia. Ma questi non lo dico perché non capiscono. Allora, quanti viaggi in Africa? Molti, più di cento, con la mia macchina. Ma che invidia, più di cento viaggi in Africa, soprattutto quali sono i paesi? Quasi tutti, quelli che ho più amato. Io sono nato appunto con Gianni nel deserto, che è una delle cose che mi è rimasto più nel cuore. E adesso è un deserto un po' particolare, l'Isis e l'Al Qaeda sta cambiando tantissimo le mie prospettive di viaggio. E anche perché io qualsiasi cosa che faccio, lo faccio sempre con uno scopo che è non solo quello di fotografare, ma magari con le fotografie di cercare di aiutare le persone che non stanno bene. E allora dopo mi sono trasferito in India, perché ho avuto l'onore di avere una comunicazione con Santa Madre Teresa di Calcutta, perché per me è santa in assoluto già allora. Però non ho avuto il piacere di conoscerla, perché quando io andai la prima volta a Calcutta, lei morì dopo dieci giorni. E però avevo un bellissimo rapporto con Sor Nirmala, che era la sua sostituta. E allora mi sono dedicato all'India, e queste fotografie poi sono dell'India. Quindi a partire dai primi anni 70, grande passione per l'Africa, e poi diciamo ha girato un po' più sull'India. Tra l'altro a proposito di suore missionario, lei ha scritto anche tre libri, i cui proventi poi sono stati devoluti alle missioni. Le portavo direttamente, erano cataloghi fotografici, se piacevano ricevevo queste somme, che poi portavo direttamente a Calcutta o dai padri missionari anche in Africa, perché mi divertivo a portare, sempre con l'insegnamento di Carutti, direttamente, così sono certo. Ah, quindi fidarsi è bene, però insomma... No, io mi fido di tutti, però se li porto sono più tranquillo. E poi c'è anche maggiore soddisfazione. Ma direi di sì, perché è bello il parlare. Allora, è già stato accennato appunto durante questi numerosissimi viaggi in Africa e in India. Antonio Auricchio dà sfogo a una sua passione che presumo sia cresciuta negli anni ed è proprio la passione per la fotografia. E oggi siamo fortunati perché Antonio Auricchio così ci ha concesso di ammirare qualche fotografia, qualche scatto che ha portato qui. Tra l'altro scatti preziosi e anche stampati in maniera eccellente, insomma. Che cosa possiamo vedere oggi? Che cosa ci ha portato? Ma allora, guardi, intanto la ringrazio. Io sono nato come fotografo da Po. Da Po, quindi poi ha cambiato un po' il soggetto. Poi dopo viaggiando il Po non c'era e quindi ho cominciato a fare un altro tipo di viaggio. E poi il bello della fotografia, che è come i formaggi. Non c'è mai un momento in cui tu ti puoi considerare arrivato. Poi grazie a Dio ho avuto una grande esperienza. Infatti queste foto erano per una mostra che dovevo fare mia personale di tanti anni di fotografia. Si chiama Porfolio, ma non mi piace il termine. Quindi una raccolta di mie fotografie e le dovevo fare in uno spazio bellissimo che era il castello di Picco della Mirandola. perché lì era la sede del nostro gruppo fotografico che si chiama Gruppo Laica, ma purtroppo il terremoto ci ha tolto un po' tutto, sia dalla location che anche il gruppo. Cos'è Modena? Sì, Mirandola è Modena, però è la città di Picco. Ho visto che ho portato anche dei guanti per toccarle in modo molto delicato. Il formaggio? Ovviamente, come ho detto lui, non con gli steggi. Eh beh, certo. Quindi guanti per toccare con grande attenzione queste fotografie che appunto vengono realizzate poi grazie anche alla passione, grazie a questo gruppo a cui faceva riferimento. Poi non ho capito, quindi questa mostra che si doveva chiamare Porfolio è stata fatta oppure no? No, non l'ho fatta perché mi sono stancato di fare mostre e devo dire che il vostro direttore mi ha convinto a portare delle fotografie che non ho mai fatto vedere. Sono assolutamente inedite perché era... Generalmente, quando hai delle fotografie un po' particolari preferisci fare un qualche cosa. Adesso sto... Cioè dedicare uno spazio preciso. In questo caso, insomma, facciamo un po' un trazzo. Però se uno mi fa fare una mostra con uno scopo, diciamo, benefico, la faccio. Bene, e ci fa piacere. Quindi possiamo già annunciarla? Possiamo già annunciare questa mostra che ci sarà? Sì, oggi, vedi? Sì, annunciamola, annunciamola. Quando ci sarà? Non ne dico ancora niente. Dobbiamo chiamare il direttore per... Quando lo so, lo dico parola. Se ti imprimi a saperlo. Va bene, ok, la ringraziamo. Allora, qualche anticipazione, allora, di questa nuova mostra di Antonio Auricchio. Che cosa possiamo vedere? Prima foto? Allora, prima foto è fatta in un posto che io ho fatto tante volte, che si chiama Varanasi o Benares, l'antica Benares. Però l'ultima volta che sono andato due anni fa l'ho trovata il turismo, la risposta che poi non le ho dato. Cioè, il viaggiatore è uno che viaggia e non dà il soldino, la caramella, la penna e cerca di non essere invadente. Il viaggiatore è questo, il turista è diverso. Quindi oggi Varanasi è stato ucciso dai turisti. Allora io sono andato a vedere il famoso Gat, dove ci sono gli indiani che si lavano e dove ci sono le pire. Io ho delle fotografie che non ho portato, non ho ancora fatto molto dure sulle pire. Invece allora mi ero stancato perché ho visto delle cose che non mi piacevano e sono ritornato in questo albergo. Traduciamo un attimo le pire, i depunti, la cerimonia funebre, il funerale indiano e vengono appunto bruciati i corpi. Che è spiritualità, bisogna vederlo anche sotto. Sì, sì, sicuramente. Secondo me l'India è molto spirituale e che è una cosa molto interessante. Quindi io tornando, strada facendo al buio, era circa mezzanotte, ho visto questi indiani che credo che stessero fumando, non malboro. e ho fatto questa fotografia illuminata dalla luce del lampione e devo dire che è stato bravo lo stampatore perché il fotografo è pronto per una certa parte. Non facciamo i modesti, lo stampatore avrà dei meriti. Sai cos'è la cosa divertente? Che io sono un fotografo ancora analogico. Ho preso una digitale che mi è servita perché mi si è aperto un altro mondo. Io in genere con la digitale faccio le foto quando non riesci più a farle con la pellicola perché la mia laica è sacra e quindi è sempre vicino a me. Laica del 1900? Della mia età. Vabbè, lasciamo perdere. 53. Assolutamente, perché è meccanica, mi piace. Intanto la uso anche per attaccare i chiodi. Devo dire che questa fotografia l'ho fatta ed è venuta in una situazione molto strana ed è venuta... Devo tirarla su? Sì, sì. Eccola qua, la vediamo in tutto il suo splendore e poi soprattutto per questa... No, nel senso che è veramente una luce molto molto particolare che è stata catturata, quindi a questo punto, da una digitale. Assolutamente, una digitale mi piace perché c'è anche il cammello dietro, quindi... Bellissima questa luce, belli colori. Questo si era illuminato dal fuoco. Non è esattamente le luci del Po, non è esattamente i colori del Po. Più o meno, più o meno, più o meno, diciamo così. Allora, attenzione. Questo invece è un altro posto. E anche qui luci splendide. Sì, sempre con questi colori. I nomi sono impossibili. Ed è una delle cose mistiche dell'India. Cioè, tu compri lumini, qua siamo su un fiume che non è il Gange, è in un posto pochissimo turistico, e ci sono queste ragazzine che vendono i lumini e gli indiani lo comprano e lo mettono nel fiume, che è sacro, no? E se il lumino dura a lungo, vuol dire che è la vita più lunga. È di buono auspicio, esattamente. Allora questa foto l'ho fatta in questo modo qua. Anche questa in situazioni assurde, perché con la luce bassissima. Qua siamo in un posto assolutamente straordinario. Ho dormito in una casa del Maragiaro, tutto convinto perché dicevo, finalmente non sono più il principe dei formaggi, ma sono il Maragiaro. Il Maragiaro ha sempre dei formaggi. E devo dire che... Poi si è montato la testa quando è tornato a casa. Non è che mi sono montato la testa, ero convinto che nella calma il Maragiaro fosse bello, invece era molto antica. Allora di notte sono andato con una barca e ho fatto questa foto alle donne che stanno facendo. Io sono sull'acqua. E questo, se uno vede di fotografia, è assurdo che possa venire con un teleobiettivo. Anche perché si muove. Si muove, invece è venuta perfetta. E quando c'è buio la macchina deve stare particolarmente ferma. E quindi buona la macchina, buono anche il polso. Allora, qui invece aumentano decisamente i colori e la luce. Qua siamo in un tempio, un tempio nella zona di Calcutta. Sono entrato in questo tempio, il Deo Ganesh è quello che è l'elefante. Ma la cosa che mi interessava, che mi faceva ridere, era che la pancia del guardiano assomigliava al Dio, perché praticamente aveva preso le sembianze del Dio. Mi piacevano questi colori. A questo sembra quasi un disegno, però. Faccio vedere un attimo. Complimenti, veramente. Sì, sì, sembra finto, come si dice. L'importante è che non si dica sembra una cartolina, perché per un fotografo è molto blu. È un'offesa. Beh, insomma, c'è uno dei colori che veramente... Allora, questa qui invece è un'altra foto. L'anno scorso ho fatto il Rajasthan, che anche quello, come le dicevo, mi aveva molto deluso, perché era molto turistico. E dal mio macchina ho fermato il driver e ho visto queste donne che raccoglievano sabbia per fare le strade. Sono entrato. Sono rimasto a fare queste foto perché trovavo una tavolozza di pittore. L'ho trovata molto interessante. Finalmente i colori dell'India. Devo dire che ultimamente, quando ci sono troppo colorato, fotografo in bianco e nero, per lo snobismo puro. Però in questo caso mi piacevano i secchi di plastica. Alla fine sono andato via perché il capo di queste, colui che schiavizzava le donne, mi ha tirato la sabbia negli occhi. Ah, perché non voleva che venissero fotografate o che venisse magari raccontato questo tipo di attiva. Però lo sfondo di prima era un popò e faceva un popò. La sabbia. E se no, ritorno alle origini. Questo era il mio vecchio metodo di fotografare. Io nasco come fotografo, ritrattista. Perché mi serviva per fotografare le mie amiche quando ero ragazzino, no? Che così? Non erano proprio così. Non erano così e soprattutto i suoi intenti erano ben altri. Ma non me ne ricordo il tempo passato. Devo dire che questa donna, la madre e la figlia, mi hanno colpito per i colori. L'eleganza sempre dell'India è incredibile. Anche perché ho notato che alcuni colori in India sono bellissimi, in Europa non stonano. Ma mi piaceranno tantissimo queste rughe. e che davano l'impressione della... Poi ho chiesto l'età e la più giovane di me sono rimasta molto. Insomma, McCurry le fa un baffo, eh? Ma McCurry è una cosa positiva perché quando io l'ho incontrato a Calcutta, mi ha portato fortuna. Ah, l'ha incontrato. Abbiamo avuto, insomma, ha fatto colazione insieme. era a Calcutta in un periodo dei monsoni e io ho fatto una foto di una bambina con gli occhi verdi e parlando con lui mi diceva pensa che è la mia fotografia più famosa però è stato il mio dramma perché ne ha fatte talmente tante altre però io sono famoso per quella. La ragazzina che poi è stata ritrovata anni dopo. E devo dire che le persone intelligenti e in gamba a parte che lui è focomelico perché gli abbiamo fatto una laica con speciale, con il pulsante. Per me è un grandissimo fotografo beh, non solo per me e devo dire che mi è piaciuto tantissimo perché quando gli è andato l'Ambrogino d'Oro a Milano nel gruppo di persone che c'era quando si inaugurava io ho comprato il libro e lui mi ha chiamato. Si è ricordato e grande. Solo per il profumo dei formaggi che amano continuamente. Antonio Ricca, spiritoso. Cumbamela, ho avuto la fortuna di vedere vari Cumbamela questo è Allabad e mi piaceva perché lo invidiavo perché aveva più capelli di me quello centrale e quindi ho fatto questa foto così, tanto per... Anche questo purtroppo anche il Cumbamela sta diventando... Cioè, le altre fotografie belle del Cumbamela le ho fatte ai fotografi europei non fotografavo più gli indiani ma fotografavo... Ecco, questo siamo su un fiumiciattolo ancora abbastanza strano ed è tipo l'elevazione nel rito cattolico e si chiama Arti e quando fanno questo sacerdote solleva questa fiaccola e anche questa è fatta al buio con un teleobiettivo e questa è grazie alla digitale. Abbiamo quasi finito ma c'è questo mio amico matto e quindi ci siamo subito capiti e questo è un olimene, un sadhu e io sono entrato in casa sua e lui mi ha detto che volava come l'aquila e ci ha voluto dare una dimostrazione e io ho detto sai, io sono un piccolo falco allora ci siamo divertiti ma era ben... e l'abbiamo fatto mi piace tutta questa storia del colore era ben, diciamo, in forma sì, questa ve la devo raccontare perché è divertente allora, innanzitutto è una fotografia indiana che sembra in Etiopia e l'Etiopia è la mia grande passione io sono in uno dei posti più strani a Tarapit che è un posto a nord di Calcutta dove una volta non mi ricordo quanti anni fanno la festa a questi bale che sono della gente della zona del Bengala che canta dei antichi menestrelli di qualsiasi tipo di qualsiasi religione fanno queste cose io sono andato dietro le quinte e c'era la luce che veniva da fuori e ho fotografato questa signora e mi piaceva perché direi che... l'espressione è intensa e anche in questo caso la luce di taglio abbiamo quasi finito solo due foto questa è una scuola mi piaceva perché la maestra sgridava il bambino che aveva fatto degli errori mi ricordava la mia giornata il bambino vestito quasi in maniera occidentale rispetto alla maestra si domanda giusta perché essendo inglesi filo inglesi chiaramente loro hanno le tenute anche a scuola è obbligatorio ce ne sono solo due e queste sono due foto che... è veramente un dettaglio incredibile questa è fatta al buio anche questa è in un paesino sperdutissimo e mi piaceva perché c'era tutto il sapore dell'India e quest'ultima che è il colore dell'India e questo mi ha servito per i caseifici anche se dopo ho litigato e non capivo come mai in certe zone questo è Jodpur le case fossero blu e azzurro così intenso ovviamente bellissime ma dicono che così le mosche e là ce ne sono tante vengono attratte e non vengono nelle case sul cibo quindi è un deterrente per... cioè vanno sull'azzurro sull'azzurro sono... allora tutte le fotografie che ci hanno riportato all'India l'Africa la prossima volta come vuole allora naturalmente la battuta è che non poteva chiamare l'India dove la vacca è sacra anche in Italia per me è sacra anche quella sostanza che la mucca produce che la vacca produce no per chiudere invece volevo sottolineare che appunto lei ha avuto diciamo un ruolo nell'aiutare le missioni in giro per il mondo in particolare in India ed è anche presidente dell'associazione cremonese Cura Casa del Dolore che dal 2008 lei è presidente e questo è un accordo che ho imparato a Calcutta perché quando sono andato a Calcutta la prima volta sono entrato in quella che si chiama Dead Room che è madre Teresa che è fantastica perché prendeva i derelitti i malati terminali e si è fatto dare vicino al tempio della Dea Kali questo posto e teneva i malati terminali quando sono entrato è stato per me uno sconvolgimento perché veramente respiravi una spiritualità pazzesca e capivi come una donna cattolica estremamente cattolica è stata la donna più amata dell'India in un posto hinduista buddista jainista musulmano perché ci sono quindi vuol dire che la San Francesco del 1900 ha ancora dato un segnale fortissimo in un mondo così cattivo ci piacerebbe veramente proseguire con Antonio Auricchio e conoscere ancora meglio l'India perché è un paese dalle tante contraddizioni che spesso non viene compreso appieno anzi che gli occidentali faticano molto a comprendere primo produttore al mondo di latte chiudo anche questo con la battuta è nel cuore allora dobbiamo chiudere e ringraziare grazie ad Antonio Auricchio presidente della Gennaro Auricchio SPA grazie per averci portato queste preziosissime fotografie speriamo in una mostra di sapere il prossimo appuntamento la faremo la faremo di formaggi va bene allora salutiamo Antonio Auricchio e le sue fotografie preziosissime vedete appunto trattate in guanti bianchi breve pausa e poi ancora ospiti grazie a tutti